C'è da capire se davvero ad avvantaggiarsi poi di questo caos che riguarda appunto la cosiddetta mafia capitale e il mondo di mezzo saranno proprio i grillini nelle prossime elezioni a Roma. Guardi, io non so chi se ne avvantaggerà, però so per certo chi ne ha tratto uno svantaggio, che poi è stata la città di Roma e i cittadini con gli innumerevoli problemi che ci sono a Roma. Ora, è indubbio che è emerso, fermo restando, che sta ovviamente alla procura, agli organi preposti, può giudicare le responsabilità nel merito, però indubbio non possiamo negare che è emerso un sistema di malaffare incostato, soprattutto anche nella pubblica amministrazione, che fa male e che credo sia doveroso da parte della politica a contribuire a disinnescare e ad arginare il più possibile. Detto questo, è indubbio che il rispetto, non sta a me adesso dire chi ha più colpa, il PD, qualcun altro, guardi, questo è un gioco dal quale mi sono sempre voluta sottrarre, perché poi alla fine quello che conta è veramente cosa si fa per evitare che ciò accada, insomma. Le colpe poi sono ben chiare, i cittadini hanno ben chiaro cos'è successo. Marino viene mandato a casa, è stato usato come alibi in questi mesi da un partito democratico allo sbando, quindi è stato tenuto lì finché è servito, dopodiché è stato cacciato. Abbiamo visto in questi due anni e mezzo è successo di tutto nella nostra capitale. Oggi però la politica deve voltare completamente pagina, deve tornare a parlare dei problemi, a dare delle risposte, a presentare le soluzioni a quelle che appunto sono le criticità, le grandi criticità della città. Ha visto che i primi rovedimenti sono già sulla carta per Roma. Ieri Tronca ha incontrato Renzi e quindi adesso si pensa finalmente alla città e finalmente ai Romani. Del resto ce n'era bisogno. Da questo punto di vista mi fa piacere che Renzi, dopo aver detto Letta stai sereno e lo ha cacciato ed è diventato presidente del Consiglio senza elezioni, oggi dopo aver detto Marino stai sereno, rimane lì per un po' ha cacciato anche Marino, non vorrei che adesso vedessimo Renzi girare per la città con la fascia da sindaco senza che lui sia stato eletto. Intanto avrebbe voluto esserci con la... È successo anche questo.